qual è il problema ma che voglio chiedere il tuo pantalone mi piace questo è un po' di spiccioli acqua minerale il prossimo che vieni te li fai portare spiccioli pantalone acqua minerale che cazzo ci vuole mica vengono quando hanno bisogno loro mica vengono quando hanno bisogno quando hanno bisogno loro glielo chiedi così l'altra volta ancora te la porterà sei tranquillo che è sicuro che te lo portano perché sono persone che ti vogliono bene non persone che ti vengono a prendere per il culo capito è sicuro questo ti vogliono tutti tutti un gran bene quindi quando è così di una famiglia apposta apposta sotto a questo tempo di merda con la pioggia e tutto il resto quando tu hai bisogno quello è il bello e allora verrà tanta altra gente a portarti questa roba qua quello che bisogna parlare i messaggi giusto giusto a te giusto per me guarda io meno vengo più sto tranquillo perché prendo meno critiche meno rottura di coglioni perché tu sei solo una parte quella che ti conviene a te tu sei solo quella non sai tutto il resto capito vabbè niente io ho finito me ne sto andando ciao via 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 me ne vado via non ne sto d'acqua minerale non c'è a come te lo devo dire lello forse vedi non riesci a capire questi pantaloni te li fai aggiustare da qualcuno che verrà qui a prenderti per il culo gli spiccioli te li fai dare da qualcuno che ti viene a prendere per il culo l'acqua minerale in ugual modo capito io non ti porto più niente verrò quando io voglia o piacere di parlare con te ma non di darti le cose o di prenderti per il culo di fare dei video dei video sul mio profilo personale di instagram capito vero così col cellulare col cellulare vengo qua col cellulare ti prendo un po per il culo e ce ne andiamo capito così dobbiamo fare mi sembra una scelta giusta è uguale stato stati bene ciao lello ciao ciao rispondi rispondi che questo qualcuno di quelli che ti vorrebbe per il culo è professor professor allello non entrerà come non entra la tua quel boccaccio e qua invece il cervello secondo te professore entra qua dentro il cervello tuo professore entra qua dentro professore ce ne so domanda gioia di una mano e lui è venuto qui ti ha preso per il culo e sei stato contento di essere preso per il culo no vabbè io faccio tutto per cuo e da me ci reggisci che ho scoperto con il sangue a cosa pensi? no a me fa piacere ma la comicità si fa in due e tu mi ha preso a me ma che ti prendo io a te sciomani ma la comicità come la intendi tu è il rapporto che abbiamo noi due ma che c'entra? che c'è? non è nessuno se tu mi dà le bravi se io non lascio a me ci faccio a me ma anche se con quel papaccio non c'è mai vedere quello buono e non mi ha preso in te e non mi ha preso in te e non mi ha preso in te e intanto è venuta a non mi ha preso la coglione se non mi ha preso la coglione e ti prendo la coglione sotto la vanda a soprav-ti per aiutare la coglione non se ne avrasta utta no a nessuno se ne è accorta perchè non hai preso nessuno ti ha preso la coglione no a me ci ne ha mai fatto questo buono a me c'è che è questo buono o cinema o teatro o la pompa dentro la tua scuola si piace non vuole non ha no eh allora rispondi mamma ce ne ha fai dito purtroppo è un amico come tutti ma non lo hai preso per il culo, non lo hai preso per il culo no non lo hai preso per il culo non lo hai preso per il culo ti ha preso solo per il culo è venuto qua posto apposta per prendere per il culo e ti sei fatto prendere per il culo no allora il gioco va quando va come vendeva e ti puoi trovare altro ma che cosa fai che cosa fai a spartare e andava a prendere per il culo e non prendere l'oltre non prendere per il culo e non prendere per il culo e non prendere per il culo non ci avverso no a te non ci avverso a te non ci avverso quindi proprio per questa dimostrazione del fatto che ciò che noi facciamo è una cosa che nel momento in cui Lelo ci dice non voglio più farlo non voglio più raccontare la mia storia non voglio più farvi conoscere quello che succede nella mia vita noi interrompiamo tutto e finisce là però venire qui con fare quella coglionata in quella maniera che senso ha per avere 10 visualizzazioni sul proprio profilo di tiktok di instagram ma io personalmente non l'ho trovato divertente io ne ando po' però ti sei prestato capito a farlo e la gente cosa pensa la gente che se vede... no la gente vede questi tiktok questi instagram queste storie e cosa pensa? pensa che se viene qui ti prende per il culo e ti posta sul suo profilo social a me vedi me le sciaco me le sciaco me le sciaco però vedrai che tornerà tornerà e farà il suo il suo siparietto nuovamente ma perchè si dice sfogati che sarei sfogato eh sfogati che sarei sfogato collega sfogati e fatelo portare dal professore no e fatelo portare dal professore facciate come ho i miei uggenzi eh sì e dico moglie lo diamo al professore così te lo fa cucciare il professore sentami tanto se uno vale l'altro uno deve valere l'altro sempre no non vale l'altro facciamo una cosa facciamo una cosa Tino aspettami un attimo eh qui? sì sì aspettami lì ma te ne vai? no 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 torno torno tieni tieni ecco il jeans tieni è strappato così il primo che viene ma a prenderti per il culo glielo fai cuccire te lo fai riportare Да non è questo ma è questo sì sì è quell'altro è strappato ancora te l'ho detto se uno vale l'altro ti sto dicendo quando viene il prossimo a prenderti per il culo glielo fai fare fai così cioè uno vale l'altro per te no non vale l'altro per me non mi devo sfogare io c'era meno l'interessa non ti so che se ti sa te la fai lascia per non so non sono qui per parlare sono qui per parlare del fatto che evidentemente a testa bene così no invece sì perché continuano a venire a fare questi tiktok che sono veramente idioti sono veramente idioti capito è una cosa che va beh professor ha un'altra cosa tiro aspetta un attimo sì 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 aspetto un attimo visto che in tanti in tanti pensano che tu sei una scimmia ti do la banana però devi dire al professore devi dire al professore che a te non piace del monte a te piace cicchita cicchite la banana preferita no il fatto che si possa pensare che questo è frutto di gelosia perché qualcun altro possa in qualche maniera avere a che fare con l'ello e quindi diffondere la sua immagine come mi piace mi fa sorridere tantissimo perché tutta questa gente che quando ha un minuto di tempo viene a trastullarsi qui non sa cosa c'è dietro non sa cosa facciamo quotidianamente tutta una serie di altre cose rispetto a fare il video finale che sta cominciando anche un po a pesare e a pesarmi non crediate però evidentemente qualcosa che fa piacere a l'ello e dunque noi continuiamo a raccontarvi la storia di l'ello da un momento all'altro potrebbe finire tutto è quello voglio farti capire no te lo voglio far capire te lo voglio far capire poi ti resta il fatto della via crucis di quattro idioti che vengono a farti fare quelle stronzate che ti fanno fare per fare le loro storie sui profili tiktok io questo te lo dico così tu lo puoi capire ma quando viene la prossima volta ho detto dagli jeans te lo fa cucire uno vale uno vale l'altro no perché non sei obbligato ma questo mi deve fare la tasca non sei non sei obbligato a farle queste cose capito cioè quando viene qualcuno puoi anche darti indietro ed evitare di farti prendere per il culo se ti ritieni di essere preso per il culo se invece a te piace a me non piace no non è così non è così non è così ti dico che non è così si dà mai tu fidati di me tu fidati di me tu pensi delle cose che non rispecchiano la realtà perché a me sa pure cominciato un po a pesare io sono contento se tu sei contento quindi nel momento in cui tu mi dirai che è finita che non dobbiamo più fare il video io guarda mi ritiro con grande serenità te lo dico te lo dico te lo dico grazie non ho bisogno grazie ma allora devi andare a conoscere l'uomo del no del monte del monte allora